Buongiorno Friuli, benvenuti in una nuova edizione della nostra segna stampa sportiva, anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano la nostra Udinese partendo come al solito dal messaggero Veneto, un messaggero che ovviamente apre con la sfida tra Udinese e Chievo partendo dagli allenatori, partendo dalle panchine perché a quanto pare c'è stata già una sfida tra Colantonio e Maran, non si è giocata in campo ma fuori e l'ha vinta il nostro tecnico. La posta in palio era la panchina dell'Udinese, il Col ha già battuto Maran, eccolo qui il titolo per la panchina dell'Udinese, il tecnico dei Veneti è stato in corso in estate per allenare il club friulano e anche l'anno precedente era nella Rosa da cui uscì il nome di Stramaccioni. Colantonio si è guadagnato sul campo la Serie A, Maran ci è arrivato nel 2012 a Catania, niente moduli fissi, cercano di sfruttare le qualità dei giocatori. Vediamo allora anche l'inizio, l'articolo a firma di Massimo Meroi, l'attacco Stefano Colantonio e Rolando Maran, professione allenatori. Li separa un anno di differenza, classe 62 il bianconero, classe 63 il giallo-blu. Li unisce la stima di Giampaolo e Gino Pozzo, visto che uno è seduto sulla panchina dell'Udinese, mentre l'altro è stato vicino ad accasarsi in friuli per ben due stati di fila. La prima volta è stato bruciato da Stramaccioni, la seconda proprio dal Cola. Verrebbe da dire che Maran prima o poi allenerà i bianconeri se la riflessione non sembrasse scortese nei confronti dell'attuale allenatore bianconero. Maran che comunque sta facendo molto molto bene anche con il Chio Verona. Il rendimento dei Clivenzi è questo, fortissimo, poi si è piantato, partito fortissimo all'inizio poi si è piantato. Domenica vincendo con il Carpi è salito all'undicesimo posto con 16 punti. Più regolare il Cammino dell'Udinese, quindicesima, quota 15 e quindi a distanza di un potenziale sorpasso che ovviamente è quello che ci auguriamo tutti per la sfida di Domenica. Si va verso la conferma dell'undici anti-Sampdoria, squadra che vince non si tocca, dice il proverbio calcistico seguito da certi allenatori. Ha fatto però che non sorgano contrattempi come quello che pone il punto interrogativo a fianco al nome di Molla Vaghe. Non allenatosi neanche ieri in gruppo a causa di un affaticamento ai flessori. Il problema non è stato definito serio e quindi Vaghe dovrebbe farcela recuperare in tempo per Verona, come hanno fatto intendere dalla società. Ma è certo che molto dipenderà dalle risposte attese nei prossimi due giorni di allenamento a cominciare dal galoppo in famiglia, previsto questo pomeriggio contro la primavera, come al solito, alle 15 al centro sportivo Bruseschi. A proposito di allenatori, a proposito di Maran e Colantuono, vediamo i loro numeri. Il bianco-nero, quota successo in panchina, 42,1%, i pareggi il 25,5%, le sconfitte 32,4% per una media punti di 1,52%. Il Chioverone invece risponde con una vittoria di 35,6%, i pareggi 29,1%, sconfitte 35,3%, la media punti è quella di 1,36%. Questa è la situazione in numeri da parte di Colantuono e Maran. In taglio basso poi c'è l'iniziativa che riguarda la violenza contro le donne, Buffon e Cabrini in campo proprio per questa iniziativa. Da ieri le foto di Cabrini e Gabbiadini con l'hashtag BastaViolenza e lo slogan rispetta le donne, dai un calcio alla violenza, saranno promossi sui siti internet e i profili ufficiali della FIGC, su tutti i social media, così da veicolare un messaggio volto a contrastare un fenomeno sociale purtroppo sempre molto attuale. Chiedo ai ragazzi il pieno rispetto dell'identità femminile, il messaggio di Antonio Cabrini, affinché essa non passi solo per la denuncia pur necessaria delle discriminazioni e delle ingiustizie. Dovete farvi portatori di un progetto di promozione fattivo affinché attraverso voi uomini domani si possa raggiungere un'universale presa di coscienza della dignità della donna. Queste le parole di Cabrini che ovviamente noi sottoscriviamo. Continuando a sfogliare il messaggero, si cambia sport, si parla di basket, il personaggio arriva da Dignano, il nuovo re delle schiacciate, si parla di Rafael Gaspardo, grande protagonista in Cremona Pistoia, la gara più friulana della 1 con Cusin, Antonutti e Mian. Leggiamo anche qui l'attacco e l'articolo a firma di Valerio Morelli, nella partita più friulana della A 2015-2016, Cremona Pistoia, posticipo dell'ottavo d'andata di lunedì scorso, spunta l'astro nascente del basket regionale. A fianco del trentenne centroazzurro Marco Cusin di Pordenone e contro il poco meno esperto Michele Antonutti, ala di Coloredo di Prato, il 2.07 del 93, Rafael Gaspardo da Dignano fa la gara della vita per ora in Serie A. Questa allora la situazione dei cestisti friulani, c'è anche poi la fotostoria, quando la palla spicchi è questione di famiglia a un passo dal tagliamento. Eccolo qui, tre immagini che appunto ripercorrono la brevissima cadera finora di Rafael Gaspardo. Andiamo adesso sul Gazzettino che dedica un'intervista a Giampiero Pinzi, il grandissimo ex di questa sfida. Giampiero Pinzi che è rimasto chiaramente nel cuore dei tifosi bianconeri, anche dei suoi ex compagni. Pinzi che però sostiene che in campo non ci sarà alcun amico. L'ex bianconero è ancora rimpianto ai tifosi friulani, scrive il Gazzettino, ma nella sfida di domenica giocherà solo per il Chievo che l'ha accolto. Ora sto bene, non pensavo di vedere l'Udinese così in basso. Le parole di Pinzi, anche qui allora leggiamo qualche estratto dell'intervista realizzata proprio da Giampiero Pinzi. Dal suo addio all'Udinese sono passati tre mesi, sente ancora di aver fatto la scelta giusta? Sì, lo sento ancora. L'Udinese si era venuto a creare delle situazioni certamente non ottimali. Allora è arrivato il Chievo che è una società seria che soprattutto conoscevo già, sapevo di essere apprezzato. Dopo cinque anni si trova davanti la sua ex squadra. Che sensazione proverà di fronte a tanti amici? Pinzi dice durante i 90 minuti non ce ne sono, domenica non avrò amici, incontrare l'Udinese a tre mesi all'addio sarà qualcosa di anomalo, ma la posta in palio sarà troppo alta per pensarci. Al fisco d'inizio sarà battaglia, ho sempre fatto così nella mia carriera, in partita non si deve regalare niente. Davvero molto molto battagliero. Giampiero Pinzi, poi c'è un commento sul momento attuale dell'Udinese, con l'ex centrocampista bianconiero che sostiene di non immaginare un Udinese così in basso, immaginavo certo che potesse essere un campionato particolare, ma non credevo di vedere l'Udinese laggiù, non me lo immaginavo nemmeno troppo in alto però. Ai suoi vecchi tifosi cosa vuole dire? Che quello che hanno fatto nei miei confronti è stato qualcosa di eccezionale, che resterà per sempre. La mia famiglia vive ancora a Udine e i tifosi sanno che sono stati una parte importante della mia vita e che li ricorderò con grande affetto. Infine, il Chievo in ripresa, partite favoriti, domanda sul pronostico della gara, anche l'Udinese in ripresa, ma noi vogliamo tornare a vincere in casa, ho visto i miei molto carichi. Poi chi toglierebbe all'Udinese si rilterò che in questo momento è il giocatore che più di altri riesce a fare la differenza. Queste le parole di Giampiero Pinzi. In taglio basso poi l'allenamento, fiducia a chi ha piegato la Samp, per Totò lavoro a parte, preoccupa invece Baghe, Totò che sta ancora recuperando dai suoi acciacchi fisici, Aguirre invece sembra pronto a tornare in campo, vale la pena di insistere sull'uruguaiano, la cui velocità potrebbe far saltare il sistema difensivo del Chievo, senza contare che l'attaccante è in costante crescita e chiede ulteriore fiducia per sbloccarsi, definitivamente per fare il salto di qualità, nel rispetto del suo bagaglio tecnico e anche atletico. Totò probabilmente dovrà accontentarsi di essere in campo dall'inizio mercoledì, quando i bianconi affronteranno l'Atalanta nella gara degli ottavi di Coppa Italia. Poi si parla anche di Iva Ghe, che come detto non sta benissimo, ieri si è allenato a parte, però non preoccupa come abbiamo anche dichiarato prima. A proposito di Primavera, poi Primavera che vi ricordiamo giocherà sabato pomeriggio contro il Como, trasmetteremo chiaramente in diretta la gara, prevista per le 14.30. A proposito di Primavera, ieri il giovane attaccante Croato Pertain, che si è allenato con la prima squadra, ha subito una distorsione alla caviglia destra, tanto da essere trasportato negli spogliatoi dove ha ricevuto le prime cure. Oggi verrà sottoposto agli accertamenti strumentali del caso. Allora sembra a questo punto anche difficile recuperarlo. Poi di spalla le voci dal web di Natale, pensa al ritiro, quello che sostengono alcuni siti internet, come tutto mercato web, che appunto immaginano una chiusura anzitempo e la cadera per Totò. Il momento, però, ecco, ci sentiamo di smentire questa voce. Il mercato poi riguarda il mercato in famiglia, perché all'Udinese potrebbe venire a giocare Alessandro Diamanti, che al momento milita al Watford. In questi giorni sarebbero ripresi i contatti con il fantasista, per convincere a lasciare la Premier e sposare la causa bianconera. Prima, però, il club inglese dei Pozzo dovrà trovare un sostituto. Sfuma, Simone Zaza, che preferirebbe l'estero. Queste, allora, le parole per quanto riguarda il calcio mercato. Si parla poi anche di Serie D nella pagina 21 del Gazzettino. Sempre grande spazio ai dilettanti. Leggiamo solo il titolo velocemente. Sacile, crollo e dimissioni. Poker Triestino. Barattin e De Martin segnano troppo tardi. Dietro fronto. Lombardi, nuovo mister, minuto, direttore dell'Academy. Incredibile come la Triestina, nonostante i continui problemi societari, riesca con il cuore ad ottenere anche dei risultati importanti per quanto riguarda la Serie D. Andiamo adesso sulla Gazzetta dello Sport. Apriamo con la vittoria. La Juventus contro il Manchester City. Juve al Max. Prima del girone, già agli ottavi. Bravo, Allegri, azzecca tutto. Manchester City, KO per 1-0. Mandzukic preferito a Morata. Segna di forza il gol vittoria. Per chiudere in testa il gruppo basterà un pareggio a Siviglia. Messaggio anche al campionato. Secondo Sebastiano Vernazza. Mai dare per finita la Juve. Mai. Ricapitolando tre sconfitte tutte in A nelle prime otto gare ufficiali della stagione. Una colza al suolo nelle successive undici gare tra Champions e campionato. Poi c'è ancora gli altri risultati della Champions League. Ibre a gol a casa sua. Il Paris Saint Germain ne fa 5. Real finale da incubo da 4-0 a 4-3. Ma è comunque primo. Eccolo qui i risultati di ieri. La tabella della Gazzetta dello Sport. Malmo PSG 0-5. Shakhtar Real Madrid 3-4. Il gruppo B invece prevede CSKA Mosca-Volzburg 0-2. E lo 0-0 tra United e PSV. Nel gruppo C la Stana. Una sorpresa di questa Champions League pareggia con il Benfica 2-2. Mentre l'Atletico batte il Galatasaray 2-0. Nel gruppo D Borussia Siviglia 4-2. Juventus Manchester City 1-0. Andremo ad analizzare anche la vittoria della Juventus tra qualche minuto. Adesso parliamo di Roma in taglio alto. Ira Pallotta, Garcia, Rischia. Se la Roma viene eliminata. Il presidente all'Olimpico per la sfida contro il Bate. Il gruppo ha il morale basso. Basta. Figuracce. Poi Luna Park Barcellona dentro la squadra che diverte il mondo. E c'è una foto emblematica di tre tra i calciatori più forti del globo. Sicuramente tra i cinque primi attaccanti al mondo che giocano tutti nella stessa squadra. Ed è il Barcellona. Poi ancora l'Europa League di quest'oggi. Napoli blindato contro il Bruges. Gesame Pioli, Tocco Kalinic, Firenze, Sogna. Poi a pagina 19 c'è una tu per tu dedicata a Del Sarawi. Addio Milan e dico grazie a Conte. Leggiamo poi anche il rompivalone di Gianni Gnocchi. Presentata la nuova app del Real Madrid. Con un click puoi far svenire Benitez dalla fame. Rafa Benitez che è sempre uno dei bersagli preferiti di Gianni Gnocchi. In particolare per la sua forma non proprio atletica. L'intervista a Seth Curry. Il nuovo fenomeno NBA. Io speciale come Messi. Ed è effettivamente un giocatore clamoroso. Seth Curry con Golden State. E il suo parziale di 16 vittorie e 0 sconfitte. Continua a dominare in NBA. Poi Schwarzer in aula in chioda il medico sapeva dell'epo. E la piega del doping è sempre presente purtroppo nel mondo dello sport. Con la collaborazione degli atleti però sicuramente si può svoltare. Mijajlovic altro cambio contro la Samp Rosso Neri con il 4-4-2. L'Inter invece gli Aiccio sempre un assist in serbo. Ora chi lo toglie più? E infine sentite Ziotoni Nadal. Rafa poche vacanze e tornerai a vincere. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo ad analizzare allora anche quella che è stata la gara della Juventus. Bravo Max avanti Juve. Allegri sceglie e spiazza Manzokic. Non Morata e il croato Stendale City. Regalando Ottavi. E vetta spente le stelle del Manchester City. Mentre brillano quelle della Juventus. Gigi Comedino poi dal Brasile all'Italia da Oscar a Fernando. E Buffon diventa Zoff. La paratona sulla linea di ieri ha ricordato quella di Zoff a Spagna 82. Leggende parallele. Anche Gigi vuole un mondiale. Ha 40 anni. Se lo vuole Gigi lo vogliamo. Anche noi ci auguriamo che si possa verificare la profezia. Le pagelle Juventus che merita un 6 e mezzo. Alexandro chiude bene. Di Bala invece increscendo. Il migliore però è il tecnico Massimiliano Allegri che merita un 7 e mezzo. Andrea Agnelli a inizio stagione aveva chiesto una Juventus qualificata con ampio anticipo agli ottavi di Champions League. Missione compiuta. Ipotecato pure il primo posto nel girone. Il migliore è Gianluigi Buffon per quanto riguarda i giocatori in campo. 7 e mezzo anche per lui al 44esimo del primo tempo sbarra la strada da Ghero di cattiveria e tecnica. E poi semplicemente mostruoso sul colpulo di testa di Fernando e sulla ribattuta ravvicinata di Yaya Toure. Il peggiore invece è Claudio Marchisio che merita un 5 e mezzo. Inizia con una bella palla dentro venificata da Mandzukic. Pesano alcuni appoggi fuori misura. Il disastroso retropassaggio che libera Ghero a pochi metri da Buffon. Gli altri voti tutti ampiamente positivi. Del resto quando si batte il Manchester City non può essere altrimenti. 6 e mezzo per Balzagli. 6 e mezzo Bonucci e Chiellini. 5 e mezzo per Licksteiner. Non ancora al meglio. A centrocampo 6 e mezzo Sturaro. 7 per Pogba. 7 per Alexandro. 7 anche per Mandzukic che inizia così così con una testata in tuffo malamente al lato. Gol da centravanti da altri tempi. Strapazza Otamendi. Deba impattare perfettamente il cross di Alexandro. Bella ed efficace. Anche la girata di destro che Hart para da campione. Prova generosissima. Gli altri voti. Di Bala merita 6 e mezzo. 6 e mezzo anche per Morata. Senza voto. Evra e Quadrado. Le Pagio e le Mece del City. Pellegrini merita un 5 e mezzo così come tutta la sua squadra. Gli altri voti. Il migliore è Joe Hart. Quindi hanno dominato i portieri. 7 e mezzo anche per lui. Tecnicamente perfetto in tuffo sulla girata ravvicinata di Mandzukic. Prima del riposo compie un'altra prodezza. Chiudendo la porta in faccia al lanciatissimo Licksteiner. Strepitoso su Morata. Il peggiore è Sterling. Arrivato a peso d'oro da Liverpool in estate. In campo al posto di uno spento Aguero. Ha sul piede a 2 metri da Buffon. La palla è l'1-1. La spreca con un sinistro molle e sbilenco. Errore che può costare caro. In sede di sorteggio. Poi l'altra partita. Glabak. Poker al Siviglia. E profumo di Europa League. Il Borussia Mönchenglabak. Dunque liquida la pratica Siviglia. Mönchenglabak che a questo punto ha il diritto di credere nell'Europa League. Le reti di Stindl, Johnson, Raffel, Vitori. Solo per il Siviglia. Poi ancora Stindl e Banega. Sempre per il Siviglia è su rigore a chiudere il quadro. Continuando ancora a sfogliare la Rosea. Prima di passare alle prime pagine degli altri quotidiani. Le parole di Allegri. Manzokic ho deciso due giorni fa. Bravi ma troppi rischi. Il tecnico bianconero parla di Di Bale e Morata. Che stanno facendo percorsi opposti. L'altro seconda punta. L'altro invece. sempre più centrale. Pellegrini. Due K.O. I bianconeri non sono migliori di noi. Manuel Pellegrini che sostiene di quanto le partite siano state equilibrate. Il risultato è stato in bilico in entrambi i match decisivi. Gli episodi. Dunque si giustifica Manuel Pellegrini che continua a sostenere la forza del suo City. Il Paris Saint Germain. Ibra a Malmo è una festa. Il PSG se ne va con cinque gol. Zlatan non inferisce sulla squadra della sua città. E si ferma una rete. Però Di Maria e gli altri si scatenano. La qualificazione adesso è in tasca. Addirittura Ibra aveva affittato un maxi schermo. Per permettere agli abitanti e alla sua città di vederlo nella sfida con il PSG. Visto che i biglietti erano andati esauriti in pochissimo tempo. Ibra che ha regalato un dispiacere se vogliamo chiaramente tra virgolette realizzando una rete al quinto minuto. Però ecco Malmo che partiva già sconfitto e si è goduta lo spettacolo di uno dei suoi figli. Dei figli della sua città che sta dettando legge in uno sport clamorosamente popolare come il calcio. Il Real Madrid si rialza con Cristiano ma quanta paura con lo Shakhtar Poké Mardit. CR7 a due gol. Nel finale tre reti ucraine in 12 minuti. Ha rischiato il Real Madrid di pareggiare la partita e avrebbe davvero rischiato a questo punto anche la panchina Rafa Benitez. Chiudiamo con le parole di El Cerave che sono interessanti in ottica nazionale. Ciao Milan, dico grazie a Conte. Poi io e Balo, due amici. L'attaccante, presto sarà tutto il Monaco. Mi dispiace tagliare con i rossoneri. All'Europeo dovrò ripagare il CT. Stefano El Cerave che comunque sta cercando continuità con il Monaco. Non ha giocato tantissimo per lui. 19 partite e due reti. Eccolo qui poi un estratto della brevissima carriera di Stefano El Cerave. Al Milan dal 2011 al 2015. 102 presenze e 27 gol. Con Balo in nazionale per lui 17 gare. Due gol con Mario. Abbiamo avuto un magnifico rapporto anche se frequentavamo compagnie diverse. Poi qui sono stato prima punta e quarto di centrocampo. La dottilità è un pregio, non un problema. Infine nessuna religione tollera quanto è successo a Parigi. Io seguo il mio Dio senza tagliare teste. E a tal riferimento vi dimando all'intervista di Molla Vague sul Messaggero Veneto che hanno anticipato i colleghi della Cronaca. Ovviamente intervista che potrete leggere in completo. su quella che è l'edizione cartacea del Messaggero Veneto. Molla Vague che appunto ha parlato di quella che è la situazione dell'Islam. E poi si parla di Lega Pro sulla Gazzetta. Si parla di Pordenone in particolare. Decenco e la Corsa Ostacoli. Pordenone come trampolino. Musica maestro, la sinfonia di Bomber Caio Decenco. Potremmo chiamarla segno e insegue la Serie B. Scrive la Gazzetta, ha 26 anni, l'attaccante è il Pordenone. Rivelazione, sta mostrando classe, opportunismo e gioco aereo. Con otto reti, cinque nelle ultime gare. Guida la classifica cannonieri del Gironea Brasiliano. Arrivato in Italia a 16 anni. Sta ovviamente ottenendo dei grandi risultati. e anche la Gazzetta ne ha ripreso le gesta. Chiudiamo, allora andando a leggere le prime pagine di Corrierello Sport e Tutto Sport. Ovviamente dedicata alla grande impresa della Juventus. Fantastica Juve, City Cup a Obi, Anconeri agli Ottavi e primi nel Girone. Segna Mazzucic, Buffon Paratutto, scavalcati gli inglesi in classifica. Allegri lascia fuori Morata per il Croato e azzecca la mossa. Ora per finire in testa basta il pari a Siviglia. Passano anche il Benfica, l'Atletico e il PSG. Rischia invece lo United fermato dal PSV a Eindhoven. In taglio alto, Roma, Ultimatum a Garcia, futuro in quattro gare, se fallisce Capello, Spalletti o Mazzarri. Ancora poi il Napoli in silenzio e sotto scorta. L'Europa League, paura a Bruges, le riserve azzurre giocano a porte chiuse. Infine il cambio in Serie B, clamoroso, via Panucci. Il Livorno chiama Bortolo Mutti, che sembrava un po' fuori dal giro, invece torna a guidare una squadra. Infine Tutto Sport che scrive, i sceicchi siamo noi, decide un gol di Manzucic, preferito a Morata. Poi insomma, sempre la solita storia, come riportata anche dagli altri giornali, con comunque un'impresa importantissima. Davvero la Juventus che ipoteca il passaggio agli ottavi. Poi l'Inter, ausilio a Barcellona, via Montoya. Finora dovrebbe essere l'unico giocatore della Rosa di Mancino a non aver disputato neanche un minuto. Poi il Milan, Mia deve aggrapparsi a Balotelli, che ha recuperato il problema fisico che l'ha tenuto fuori fino ad adesso. La viola più forte per andare avanti in Europa League a Basilea giocherà Kalinic, pronto appunto a guidare la sua Fiorentina al prossimo turno. Le follie del PSG per CR7, quasi 20 milioni di ingaggio. E poi la svolta al Livorno inizia l'era Bortolo Mutti, allontanato Cristian Panucci. In taglio basso, ecco chi corre di più nel toro e ora Cairo vuole blindare Glick, Perez e Maximovic. Era questa allora l'ultima notizia della nostra segna stampa sportiva. Abbiamo analizzato il momento dell'Udinese, ascoltato, letto l'intervista a Giampiero Pinzi, anticipato soltanto quella a Mollavaghe. Insomma, ha anche fatto il punto sulla situazione dei bianconeri in vista della gara con il Lecchio Verona. Ne sapremo di più sicuramente oggi dopo la sgambata in famiglia prevista per le ore 15. A me non resta che salutarvi e augurarvi ancora una volta buongiorno Friuli.